Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari. L'emergenza freddo sono numerosi volontari che tra ieri e oggi hanno prestato in vario modo assistenza senza tetto e bisognosi. Roberto Maggi ieri notte ha seguito le varie associazioni impegnate a Bari. Un pasto caldo, un bicchiere di latte, una fetta di dolce e un paio di mandarini. E' un menù completo quello che i volontari servono alle tante persone arrivate nel centro di Piazza Balenzano. L'emergenza freddo ha solo aumentato l'importanza di questo servizio ma qui le associazioni offrono la cena ogni sera, donata da ristoranti, aziende specializzate o privati cittadini. Ci sono almeno 15 persone a dare una mano, ogni giorno un gruppo diverso che si affianca all'associazione incontra che fa da trade union tra le tante realtà che si occupano a Bari di solidarietà. Non servono soldi, solo cibo, coperte, vestiti pesanti e scarpe, spiega Gianni Macina, portavoce di uno spirito di servizio che è sempre vivo, pur in una città, con le sue infinite controverse sfaccettature. Chiunque vi chieda soldi per evitare senza pesa di mura non sta agendo in maniera corretta. Noi raccogliamo e abbiamo bisogno di coperte, giacche a vento, calze e guante. Chi vuole lo sportello qui operativo normalmente tutte le sere dalle 8 alle 9 e mezza. Per questa serata sono presenti anche i medici della Onlus, Nicolaus e Nicola Damiani, che alle spalle nei locali della chiesa di Sant'Antonio dal lunedì al venerdì mattina prestano assistenza a carattere sanitario a senza tetto ed indigenti. Servono più farmaci, ci raccontano, soprattutto antibiotici. Non è facile reperirli, medici e farmacisti stanno lavorando con la regione per riuscire a recuperare medicinali non utilizzati o avanzati da altri pazienti. Nel frattempo parte il giro dei volontari e dei giovani per la pace e comunità di Sant'Egidio, portano bevande calde a chi, nonostante il freddo, ha scelto di rimanere a dormire alla diaccio, rifiutando il posto letto nei centri di accoglienza notturni. Io dormo qua. Ma stanotte fa freddo. Freddo, amico mio. Amico tuo, mai fai male a te. Sei sicuro? Non ti copreneva? Ma sicurissimo, ma non è sicuro. Sicuri sì. L'aeroporto Carol Voitila chiuderà i battenti per una settimana. Lo stop ai voli è previsto dalle 23 di oggi sino alle 6 di venerdì 9 marzo. Una chiusura forzata per procedere ai lavori di prolungamento della pista, che passerà da una lunghezza utile di circa 2.500 metri a 3.000. Nel periodo di blocco dell'operatività tutti i voli di Bari saranno trasferiti a Brindisi per agevolare i passeggeri. Aumenterà il numero delle corsie giornaliere del servizio Puglia Airbus Bari Brindisi al costo di 10 euro. Corse che passeranno da 4 a 9 con partenza da Brindisi e da 4 a 8 da Bari. Decisamente più costosa l'opzione taxi, la tariffa sarà di 140 euro al posto di 190 per 4 persone. Per chi volesse invece raggiungere Brindisi in auto, previste diverse aree di parcheggio nelle aree limitrofe all'aeroporto. Restano immutate le corse dei treni. Decaro viola il silenzio elettorale con l'inaugurazione del parco Troisi e con il giardino Isabella d'Aragona. Duro attacco della consigliera comunale Irma Melini al sindaco di Bari Antonio Decaro. La legge è chiara, spiega la Melini, e prevede che campagna e propaganda elettorale si fermino il giorno prima e il giorno stesso delle elezioni. Eppure Decaro, sindaco di Bari per il Partito Democratico, dopo mesi di ritardi sulla consegna del giardino Isabella d'Aragona, sceglie proprio questa settimana per inaugurare ben tre parchi, di cui il più bello parco Troisi e merito dei privati. Non è campagna elettorale questa? Un parco da 3.000 metri quadri nel cuore della città di Bari. Il sindaco Antonio Decaro ha annunciato una messa in gara dei lavori per la realizzazione del nuovo polmone verde nell'area della ex caserma Rossani, un luogo che avrà una nuova funzione, ha affermato Decaro. Stiamo contemporaneamente contemplando le procedure per avviare la realizzazione della più grande biblioteca del sud Italia e la progettazione della nuova sede per l'Accademia delle Belle Arti. Uno spazio per il tempo libero, ma anche per la cultura e la formazione dei baresi. Il giudice monocratico del Tribunale di Bari, Chiara Civitano, ha assolto perché il fatto non sussiste dall'accusa di omicidio colposo Filippo Desimini. L'automobilista era accusato di aver investito e ucciso con la sua Seat Ibiza il 69enne Tommaso Lorusso, mentre il pensionato attraversava fuori dalle strisce pedonali una strada buia del rione Iapigia di Bari la sera del 30 gennaio 2010. Al termine del processo di primo grado, il giudice ha accolto la tesi del difensore di Desimini, l'avvocato barese Lucio Magnifico, che ha insistito sull'assoluta imprevedibilità dell'evento, evidenziando che sull'asfalto l'auto investitrice aveva lasciato cortissime strisce di frenate e che la reazione del guidatore alla vista del pedone era stata appunto di frenare. CISL incontra i candidati al Parlamento questa mattina nella sede di Bari, confronto aperto sul lavoro e fisco, l'area del vino. Dalle urne il lavoro è il titolo dell'iniziativa che l'Unione Sindacale e Territoriale della CISL Bari ha organizzato per questa mattina, obiettivo attivare un confronto sul lavoro e fisco, oltre le divisioni partitiche. Si tratta infatti di affrontare due dei temi centrali della campagna elettorale che preoccupano la Confederazione dei Lavoratori. Per questo il segretario generale della CISL di Bari, Giuseppe Bucuzzi, ha voluto incontrare i candidati al Parlamento. Mai come in questo momento storico servono proposte credibili, sottolinea, proposte capaci di essere attuate nella particolare realtà italiana che sconta ritardi e disallineamenti molto più gravi nel sud del nostro paese. Mancano pochi giorni alle votazioni e crediamo che siano giorni importanti in cui le scelte devono essere fatte in maniera ponderata dagli elettori. Quindi abbiamo voluto incontrare i candidati territoriali al Parlamento per discutere di quelle che sono state anche le proposte che la CISL, la Confederazione, come la nostra segretaria generale, ha presentato ai candidati in materia di lavoro, fisco, welfare e Europa. In particolar modo oggi ci concentreremo su quelle che possono essere le idee che i partiti dovranno portare al Parlamento su lavoro e fisco. Il lavoro che per quanto riguarda il territorio del Mezzogiorno, in particolar modo la nostra provincia, riguarda particolarmente la componente giovanile e la componente femminile. Il direttore del personale delle relazioni sindacali del MIBACT, Alessandro Benzi, a Bari per parlare delle prospettive in campo artistico-culturali della nostra regione. Il servizio. Si parla un po' di come poter sfruttare al meglio le risorse artistiche e culturali di questa regione. Che cosa si sta cercando di fare per valorizzarle nel miglior modo possibile? Beh, intanto le attività che sono state svolte negli ultimi quattro anni a favore della regione Puglia, devo dire, non soltanto in termini di risorse legate ai fondi comunitari, legati al tema della cultura in particolare, quindi l'attività di restauro, di trasformazione e di conservazione dei beni culturali che sono presenti in ambito regionale. In realtà l'impatto di carattere organizzativo che la riforma in qualche misura ha determinato all'interno dell'ambito regionale, come dire, ha dato comunque dei suoi effetti positivi. Noi cominciamo a vederli oggi, chiaro, i follow-up su trasformazioni complessive non sono così di facile misurazione o immediata misurazione. In Puglia mancano operatori specializzati in questo settore. Che cosa si può cercare di fare per investire proprio nel materiale umano? Il ministro quando si è insediato nel 2014 ha trovato un ministero anziano. Una media d'età era di 55 anni, due punti e mezzo superiore a una media del comparto ministeri che è già di per sé più anziani rispetto al comparto della pubblica amministrazione locale. Ecco che su questo nel 2015 in deroga al blocco del turnover, perché è un problema non solo nostro ma in generale di tutti i ministeri, il ministro è riuscito ad avere un concorso per il 500 che nel tempo si è portato in ultimo con la legge di stabilità del 2017, fino a mille funzionali da assumere all'interno delle nostre strutture. Presentato questa mattina nella sala del rettorato dell'Ateneo di Bari il master di secondo livello in chirurgia orale e implanto protesica. Un passo avanti importante in fatto di prevenzione e terapia delle malattie neoplastiche del cavo orale. Sentiamo. Presentato questa mattina il nuovo master di secondo livello in chirurgia orale e implanto protesica tradizionale laser assistita che nasce dalla collaborazione tra l'Ateneo barese e l'Istituto Tumori Giovanni Paolo II. L'Università di Bari conferma il suo impegno nella formazione specialistica di eccellenza e questa sinergia preziosa tra l'Università e l'Istituto Oncologico offre nuove opportunità. Un programma di collaborazione molto avanzata nell'ambito della ricerca medica, sottolinea il magnifico rettore Antonio Felice Uricchio, che aggiunge prepara nuovi traguardi in fatto di scienza e prevenzione. Con questo master prosegue il direttore generale dell'Oncologico Antonio Delvino, vince l'Università e soprattutto vincono i cittadini pugliesi. Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo allargato l'offerta in istituto, nell'oncologico, a distretti che prima non curavamo e in questa ottica un anno fa abbiamo stipulato una convenzione con l'Università per avvalerci della professionalità del professor Mangini dell'Istituto di Odontogliatria perché la diagnosi precoce nei tumori del cavo orale rappresenta una grandissima risorsa per prevenire tumori che sono fortemente invalidanti e spesso molto aggressivi. Noi vogliamo lasciare un testimone per iniziare a progredire e siccome i risultati di un meccanismo di prevenzione sono fondamentali sia ai fini della salute, come ho detto, sia ai fini proprio dell'economia di una regione, pensiamo che questo sarà un sicuro lascito alle generazioni successive. L'informazione termina qui, vi ricordo che potete seguire notizie ed aggiornamenti sul nostro sito internet www.telebari.it Ed ora vi lascio al meteo. Amici, trebi meteo, bentornate a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì che potrà essere particolarmente delicata stavolta per le regioni settentrionali. È presente un vasto centro di bassa pressione sull'Europa occidentale, condizionerà il tempo anche sull'Italia. Vediamo allora la nuvolosità prevista sul nostro paese, nubi sempre più compatte, a partire da ovest, interessano principalmente il centro-nord, ma anche le regioni meridionali vedranno parecchie nuvole di passaggio. E come precipitazioni, ecco arrivare la neve, anche diffusa nelle regioni settentrionali, nevicata anche nelle zone interne dell'Italia centrale, anche se nel centro Italia, piano piano la neve lascerà spazio alla pioggia. Quindi, in definitiva, giornata di maltempo soprattutto al centro-nord, con la neve nelle regioni settentrionali, ripeto, anche piuttosto insistente. Neve nelle zone interne dell'Italia centrale, che poi comunque girerà in pioggia, qualche piovasco ma in forma meno diffusa anche al sud. È giornata che resta molto freddo, ovviamente, nelle regioni settentrionali, invece al centro-sud le temperature iniziano a guadagnare qualche grado. Con questo è tutto, ma per dettagli state con noi su www.trebimeteo.com